smile and learn La farmacista vende medicinali e prodotti per la salute. Lavora in farmacia. Ingegnere. L'ingegnere si occupa di progettare soluzioni come macchine, strutture o tecnologie per semplificare la vita delle persone. Giornalista. La giornalista indaga e raccoglie informazioni su ciò che accade per raccontarle alla gente. Può lavorare alla radio, in televisione o anche per una rivista o un giornale. Giornalista. Fotografa. La fotografa scatta foto con la sua macchina fotografica. Fotografa. Astronoma. L'astronoma è una scienziata che studia l'universo. Usa un telescopio per osservare dalla Terra le stelle, i pianeti e le galassie. Astronoma. Presentatore. Il presentatore conduce un programma radiofonico o televisivo. Presentatore. Bagnino. Il bagnino si occupa della sicurezza nelle piscine e nelle spiagge. Lavora in una postazione di salvataggio e usa il salvagente e una moto d'acqua. Bagnino. Cantante. La cantante si dedica alla creazione di musica con la sua voce. Cantante. Postino. Il postino consegna pacchi e lettere alle persone nelle loro case. A volte viaggia in moto o in bicicletta. Postino. Vediamo se te le ricordi tutte. Chi taglia e sistema i capelli? Il parrucchiere. Chi si occupa della salute degli animali? La veterinaria. Chi vende le medicine? La farmacista. Chi progetta macchine e strutture? L'ingegnere. Chi fa ricerche e raccoglie informazioni per poi raccontarle? La giornalista. Chi scatta foto con la sua macchina fotografica? La fotografa. Chi studia l'universo? L'astronoma. Chi appare in un programma televisivo o radiofonico? Il presentatore. Chi si occupa della nostra sicurezza in spiaggia? Il bagnino. Chi fa musica con la sua voce? La cantante. Chi consegna lettere e pacchi? Il postino. Quante professioni! Non è vero? E ora che le hai viste tutte, sai già cosa vuoi fare da grande! Quante cose abbiamo imparato in un solo video? Sai che ne abbiamo tanti altri? Immagina tutto quello che puoi imparare! Iscriviti al canale educativo di Smile & Learn per imparare mentre ti diverti! Ciao! 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 Ciao!